è bellard wow eccoci qua hai visto Len che super cantante che ti ho portato fantastico noi qua ci stiamo sfidando in realtà ognuno ha il proprio concorrente facciamo la sfida interna esattamente intanto ciao bellard oggi tu diciamo che sei fra virgolette nella squadra di analisa e ti vediamo molto bene come va tu da dove arrivi di dove sei io sono di ferrara perfetto bene guarda noi intanto siamo molto felici di averti oggi oggi come ospite concorrente in gara però lasciare un po la parola ad analisa perché siamo curiosi adesso è arrivato il tuo momento devi raccontarci di te analisa prego allora bellard appunto sappiamo che vieni da ferrara però hai registrato una tua canzone che è quella che stai portando adesso in giro come vediamo anche dal social la stai promovendo che è my love e che ha la particolarità di essere stata registrata in una città che conosciamo abbastanza bene e tra l'altro tenendo un video spettacolare ci racconti un po come è nata la canzone come è stata la registrazione ma anche come nasce bella come come nasce bellard allora diciamo bellard nasce nel 2017 come ho già detto neanche nella vecchia intervista che ho avuto il piacere di fare sempre con voi esatto perché ricordiamo chi è stato ospite del nostro verone in musica esatto esatto bellard nasce nel 2017 bellard perché il mio cognome è bellardo togliendo i miei compagni di classe delle elementari delle medie chiamato bellard e quindi li è nato il nome d'artista mi piace invece my love il mio primo singolo diciamo da indipendente perché non ho ho fatto varie canzoni in featuring prima collaboravo con un artista eravamo un duetto invece ora faccio singoli da solo ecco sono ma bellard scusa io ti vorrei chiedere una domanda di che genere parliamo cioè parliamo del tuo genere musicale come accennava analizza cioè sei nato nel 2017 affrontandoti su che genere musicale allora io sono nato con il rap ok il pop diciamo invece in questo momento sto un po unendo i due generi sia la trap che la pop che il rap un po un po un mischione certo certo il famoso mischione bene e invece dicevo sì esatto scusami come dicevo my love è nata innanzitutto doveva essere girato a londra il video wow però hai trovato una città migliore ovviamente sotto consiglio dei miei amici mi hanno detto ma perché non agire a verona che dai giulietta un po città dell'amore e alla fine è stata verona la scelta più più giusta più giusta ed è soddisfatto comunque come scelta già nel senso sei tantissimo noi va bene noi siamo di parte però verona è sempre verona quindi verona è sempre verona è sempre verona e io mi permetto vorrei fare una domanda al tuo ospite analisa allora si parlava di progetti presenti cioè di oggi quindi my love è girato in questa città e il video com'è stato la procedura del video c'è avete messo tempo girare a trovare le comparse a gestire tutta la questa parte l'hai gestita tu da solo hai un team di amici collaboratori no per fortuna un team a un team con un videomaker che è fantastico ringrazio lo ringrazio lo che ti starà guardare e in pratica ci ha pensato praticamente a tutto lui ha pensato già le scene da fare ha già aveva già pensato dove girarlo perché lui comunque verona la conosceva già e quindi è stato un po un po più semplice il procedimento la gestione certo esatto ma cosa dici io sono curioso cioè adesso sono in fibrillazione perché voglio vederlo questo video siamo anche per questo io direi che se bella sei d'accordo lo facciamo lanciare ad analisa sei pronto tu perfetto io sono pronto mi metto qua ti guardo ti ascolto analisa ci ascoltiamo my love di bellard my love tu sei bella da morire però pungi come spine sei spietata sai tradire my love tu sempre in giro con le amiche o farlo scemo con le altre si ti ho persa my love tu sei bella da morire però pungi come spine sei spietata sai tradire my love tu sempre in giro con le amiche o farlo scemo con le altre si ti ho persa oh no non voglio perderti vieni qua con me porto io l'arma e tu la vodka my love eri bella da morire però pungi come spine sei spietata oh my love ho capito i miei sbagli invece che riconquistarti pensavo a distrarmi eh eh tu tra le braccia di altri si provavi a consolarti però pensavi a me pensieri futili non darmi più dello stupido ho cercato più volte di parlarti mi dicevi lavati subito con due bottiglie di jack chiuso in macchina ho pensato più volte di non farcela la sola cura era scrivere e rimesso un pezzo di carta bianca my love tu sei bella da morire però pungi come spine sei spietata sai tradire my love tu sempre in giro con le amiche o farlo scemo con le altre si ti ho persa hey my love tu sei bella da morire però pungi come spine sei spietata sai tradire my love tu sempre in giro con le amiche o farlo scemo con le altre si ti ho persa hey oh no non voglio perderti vieni qua con me porto io l'arma e tu la vodka my love eri bella da morire però pungi come spine sei spietata oh my love capita a volte che per la strada ci incontriamo però non mi guardi nemmeno questa cosa si fa male davvero davvero baby e invece che piangere cancello tutte le chat importanti con te sperando già di scordarmela forse era meglio che non ti avessi mai conosciuto se poi alla fine mi tratto solo come sconosciuto però ho bisogno di te e tu hai bisogno di me dammi quest'ultimo bacio poi stringimi forte cercherò di lasciarti amo my love tu sei bella da morire però pungi come spine sei spietata sai tradire my love tu sempre in giro con le amiche o farlo scemo con le altre si ti ho persa hey my love tu sei bella da morire però pungi come spine sei spietata sai tradire my love tu sei bella da morire oh my love tu sei bella da morire my love ma che meraviglia complimenti per la canzone perché affronti un genere che viene spesso ormai è quello che va suonato però ci metti un qualcosa di più nell'anima love esatto proprio il love e poi il video spettacolare veramente tanti tanti complimenti mai no davvero bello davvero bello bellardi invece io vorrei chiederti intanto complimenti a tutto il team perché è girato molto bene bello altissima qualità quindi forte simpatico e emergente ma comunque già in un sistema bretato verso il futuro in avanti raccontaci un po quali sono cosa stai preparando cosa hai preparato in questo periodo se hai avuto modo di approfittare della chiusura progetti progetti futuri non svelare troppo qualcosa no non svelo troppo nel 2021 ho intenzione di pubblicare il mio primo album ci sto già lavorando diciamo che quello lì il mio mio lavoro principale che sto facendo in questo momento e sto sono un po a scarso di singoli perché li voglio tenere proprio per l'album quindi magari vengono bene fuori ancora un singolo qua dicembre e poi dopo tutto il resto viene fuori nel 2021 beh direi che piano ottimo poi però quando arriverà il 2021 e tu uscirai con questo progetto devi venire a trovarci mi raccomando ovvio ok mi raccomando bene io avrei una domanda così una curiosità prima di arrivare un po alle domande finali che adesso ti farà analisa tutta la parte degli arrangiamenti tutta questa parte gestionale chiaramente c'è qualcuno che tu scrivi i testi confermi? io scrivo i testi e metto la voce ok certo e poi chiaramente hai i collaboratori che ti supportano nella produzione un bel sound quindi certo bella produzione analisa prego allora io bellard volevo farti un attimo una domanda personale diciamo così cosa ti spinge a fare sappiamo che fare musica è difficile quindi cosa ti spinge a suonare cantare qual è quel fuoco che ti fa dire sì io voglio far sentire quello che ho da dire quel fuoco ce l'ho veramente da bambino è il sogno di una vita è il sogno che aveva anche mia sorella che non è mai riuscita a realizzare diciamo e io invece ce la voglio fare perché mi sveglio la mattina cosa penso faccio musica vado a dormire la sera cosa pensa faccio musica nel frattempo faccio anche due lavori perché comunque sono spese bravo prima domanda e poi noi ti salutiamo faccio un appello perché dovrebbero da casa e comunque anche dai social votare bellard allora dovete votare bellard per due motivi diciamo vai il primo è perché vi prometto che vi regalerò musica stupenda ho in progetto veramente della musica top il secondo motivo perché aiutate un ragazzo a realizzare il proprio sogno diciamo che ce l'ha da una vita bello 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 speriamo bene dai realizzate il sogno di bellard facebook instagram raggio adice votatelo grazie grazie bellard per essere stato con noi davvero un piacere davvero un piacerone in bocca al lupo e ci vediamo presto ciao bellard ciao 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 ciao